Grazie a tutti. 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 Non ho la certezza perché lì potevano essere anche 7-8 pesci dentro in quella buchetta. Però ho quasi la sensazione che possa trattarsi di quello che ho toccato dentro prima che ho slamato subito. Si incazzano subito questi pesci. Poi li conosci e poi li conosci e queste cose le impari. Ho perso il conto ho perso il conto di quanti pesci ho fatto stamattina. Ciao bello. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.